Lei è Lilli, è una springerina, una rinuncia che è arrivata abbastanza da poco in canine, è una taglia medio contenuta, abbastanza giovane perché ha circa 5 anni, è una cagnolina che non conosciamo tantissimo però che a noi sembra veramente fantastica, è piena di vitalità, le basta poco per essere felice, ama tantissimo la compagnia e quindi lei è felicissima quando qualcuno riesce a stare un po' con lei, senza poi fare niente di che, anzi lei prima corre sprenatamente e poi finalmente si rilassa, se non le piace sdraiarsi magari sotto la sedia dove sei seduto, e poi apprezza molto le carezze, si rilassa tantissimo, però insomma quindi ha molta energia da impiegare, quindi è una cagnolina molto attiva, può tranquillamente essere lata anche a chi abita in appartamento, però l'importante è che la si porti a fare delle belle camminate, così almeno un modo di sfogarsi, sembra con gli altri cani che vada abbastanza a simpatie, probabilmente con le femmine non va d'accordo, con i maschi è da vedere, non le piacciono i gatti, per noi non sembra assolutamente avere particolari problemi, ha il suo caratterino peperino, ecco però insomma ogni cane come ogni umano ha il suo carattere, e lei comunque sprigiona più che altro, ripeto la sua gioia, va conosciuta perché con gli estrani inizialmente è un pochino restina ad avvicinarsi, però poi basta poco, basta conoscerla un minimo, e ti viene a cercare appunto per le coccole, e per stare un po' insieme, quindi insomma speriamo che trovi un umano, una famiglia per lei, non sappiamo se è adatta con i bambini, però è una cagnolina che ha tanto da dare, è molto molto affettuosa.